Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 5 gennaio 2019, la nostra consulata rassegna stampa, andiamo a vedere tutte le prime pagine dei quotidiani regionali e nazionali, si parlerà della visita di Salvini nella regione Abruzzo, di cronaca anche dell'aggressione purtroppo di un agente penitenziario all'interno di un carcere, ma anche di maltempo e in particolare nei quotidiani nazionali si parlerà dell'immigrazione. Vogliamo subito iniziare pertanto con la prima pagina del quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo, titolo di apertura, Ica Samonica via da Pescara, Salvini durante la visita in Abruzzo dice un pericolo per il territorio e la presenza di esponenti del clan nel carcere. Dopo il vertice sull'ordine pubblico in prefettura, i bagni di folla a Chieti, Pescara e Monte Silvano, qui vediamo la foto di Salvini mentre si fa anche dei selfie con i cittadini durante la visita in Abruzzo. Nel centro pagina vediamo una foto, la morsa dell'inverno dice strage di tartarughe per le mareggiate e neva all'interno un morto ad Avezzano. Inoltre, altro articolo di cronaca, nel taglio di spalla di sinistra, costa di trabocchi sotto sequestro il tesoro della mala. A San Vito, Sigilia, Villa, Terreni, Oliveti, dell'esponente della Camorra, Alberto Bova. Inoltre, nel box, a Teramo, un altro agente aggredito da un detenuto, ancora aggressione nel carcere, Terramano di Castrogno. Vediamo nel taglio basso, in merito sempre alla ricostruzione, a Teramo, addetti in fuga ufficio, in affanno. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano, il centro di Pescara. Rigopiano, la risposta in dieci giorni. Salvini a Pescara riceve i familiari delle vittime dell'hotel e garantisce il suo impegno. Poi, nella seconda parte, vediamo anche un servizio che è stato preparato dalla nostra redazione del Tg6. Nel taglio alto, pubblicato il dossiere sulle tasse, Abruzzo, l'evasione fiscale è da record, supera i 2,5 miliardi. Invece, nel taglio alto di destra, nodi di governo sui migranti, nuovo scontro tra Di Maio e Leghisti. Ad Atessa, altro record alla Sevel, 5 mila furgoni in più sono stati realizzati. Vediamo, ci spostiamo nel taglio centrale, articoli di cronaca, oggi a Pescara via i saldi tra core gospel e musiche dal vivo. Sempre Pescara, vediamo anche poi, nella seconda parte all'interno, l'ambulatorio dei vaccini, apre a fine mese. Monte Silvano, invece, spacciatori nella scuola mai completata. Nel taglio basso, alberi e tetti sradicati dal forte vento a Francavilla, vola la copertura del ristorante La Nave, interventi in tutta la città. Ora, adesso vogliamo spostarci al quotidiano, il centro della provincia dell'Aquila, Avezzano e Sulmona. Nella neve, attese 350 bancarelle. L'Aquila, oggi la fiera dell'Epifania, tra defezioni e superlavoro per liberare le strade. Nel articolo di Spalla, nei box, l'Aquila, tariffe dei taxi, scatta l'aumento di inizio anno. Dice, in città le tariffe dei taxi erano ferme da oltre dieci anni. Il comune le ha elevate dopo una richiesta del consorzio dei tassisti. Nel centropagina, vediamo sempre i disagi del maltempo, intrappolato nella tormenta, notte di paura in auto. Operai al lavoro a trasacco per liberare le auto intrappolate da neve e ghiaccio. Ad Avezzano, sballo da alcol, ragazzina in coma etilico. All'Aquila, i testimoni, scene da panico e ore al freddo e al veglione. Muore nella casa senza riscaldamenti. Dramma per un migrante ad Avezzano ed ad Teleta, 34enne, trovato nel letto senza vita. Adesso leggiamo la prima pagina del quotidiano, sempre il centro, questa volta della provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Chieti, bagno di folla per Salvini. Il ministro dell'interno ha sediato in piazza dei sostenitori, dice qui l'articolo, e vediamo tutti a caccia di un selfie per Salvini. Inoltre, sempre vediamo qui nella foto, Matteo Salvini, che ieri mattina ha visitato la città di Chieti. Inoltre, sempre a Chieti, tunnel e riapre il cantiere del, diciamo, atteso da 11 anni, riparte il cantiere del tunnel per collegare il terminal. Inoltre, sempre a Chieti, il presepe torna nella grotta dei due senza tetto, porta a spasso il cane attaccato dai cinghiali e emergenza, invece, ghiaccio, sradicati gli alberi. Vogliamo adesso fare un attimo un break pubblicitario e poi ripartiamo subito con le pagine dei quotidiani, anche nazionali. Lì stava portando alla sede centrale, è stata bloccata, dice, dai malviventi. Vogliamo adesso passare al quotidiano la città della provincia di Teramo. Allerta neve, il peggio è passato. Ho revocato il blocco di Tir, e il problema resta il ghiaccio nell'entroterra e l'amareggiata lungo la costa. Nel taglio alto, vediamo un articolo, braccio di ferro tra Comune e Team. Sull'organico, porta a porta, il solito pasticcio, dice l'articolo alla Teramana. Vediamo, infatti, anche qui nel taglio centrale, una foto con quello che è successo riguardo alla cronaca di ieri. Abbellante, chiama carabinieri, polizia e finanza, ma nessuno interviene. Imponente, faccia a faccia, con i ladri. Inoltre, nel taglio basso, la piccola Gaia nasce in ambulanza. La Rosetana è nata nella corsa tra Roseto e Teramo. Nel articolo di spalla, di destra, le elezioni regionali, il partito demorgatico terramano punta sulla sentinella del Gran Sasso. Sprechi, invece, a Giulianova. Pilanoteca è già da rifare il pavimento del 2012. Inoltre, sport, il teramo calcio. Campitelli apre le porte all'ingresso del socio casertano di Matteo. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, articolo di apertura, migranti, tensione nel governo. Politica, Malta all'Italia, attenti alle parole, sul decreto sicurezza intesa tra i due vicepremier. Dice, non lo cambiamo. Di maio accogliamo noi, donne e bambini della Sea Watch. Salvini, basta con i ricatti. Inoltre, articoli di spalla. Vediamo qui assalto hacker ai politici tedeschi. Spiata la Merkel in rete. Carte riservate sono state riportate. Inoltre, nel centro pagina, in viaggio, lui e architetto di Padova, le canadese, erano diretti in togo. Dice, l'architetto padovano Luca Tacchetto e la canadese Edith Blyce scomparsi nel Lulla nel corso di un viaggio in Burkina Faso. Infatti, dice, il mistero di Luca e Edith scomparsi nel Burkina Faso. Inoltre, in merito alle tragedie che sono successe in questi giorni sulla neve, morire sulla neve in slittino a otto anni contro un albero. Un'altra bambina, dopo quella di nove anni romana, che è morta sul Sestriere, è morta per un incidente sulla neve. E dice, la seconda in pochi giorni, la vittima, otto anni originaria della zona di Reggio Emilia. Inoltre, interessante un articolo qui, riportato nel taglio basso, la cura contro l'ansia, scrivere a mano. Da Howard alla Cina torna il culto della bella grafia e come avere, dice, il cervello nelle dita. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano La Repubblica. La nave che spacca il governo Salvini sui migranti non cedo. Conte e Di Maio lo sfidano. Accogliamo donne e bimbi di Sea Watch. Allarme, sanità sul decreto legge e sicurezza. Andiamo. Inoltre, anche la Repubblica, Angela Merkel, spiata, razzi hacker, contro i leader tedeschi, diffusi online i dati e chat di mille politici, colpiti tutti tranne l'estrema destra. E inoltre, anche il Repubblica, nel box in basso, l'architetto che ama l'Africa, sparito nella sacle delle stragi. Il messaggero, questa volta, prima pagina del quotidiano nazionale, lite sui migranti, mossa di Di Maio, porta aperte a donne e bambini della Sea Watch. Il Movimento 5 Stelle, in crisi di consensi, prova a smarcarsi. Gelo di Salvini, basta ricatti, non cambio idea, perde slancio il fronte dei sindaci, disobbedienti. Inoltre, sempre nel taglio alto, centrale, in arrivo il decreto del Governo sul pensionamento statali, tempi stretti per uscire a luglio, duri gonne, prestito bancario per il TFR, dice qui l'articolo. Nel taglio centrale, vediamo, sempre al maltempo, il freddo di questi giorni, allontane i timori sul riscaldamento globale, neve anche al sud, l'inverno che rassicura. Inoltre, a Roma, cronaca di Roma, troppi rifiuti, la scuola non riapre, l'altolà dei presidi. I dirigenti degli istituti scrivono al sindaco Virginia Raggi, c'è rischio, epidemie, intervenga in 48 ore. E inoltre, da dramma in alto adice, slittino contro albero, muore un'altra bimba. Questa volta di 8 anni. E invece nel box di sinistra, nel taglio basso, l'inchiesta shock, traffico di organi e schiave del sesso, l'FBI in Campania. Il mattino di Napoli, migranti di Maglio sfida Salvini, il vicepremiere Conti, pronti ad accogliere le donne e i bambini della Sea Watch. Movimento 5 Stelle prova a recuperare i consensi, il leader leghista, basta ricatti, dice, non cambio idea. Inoltre, nel taglio alto, vediamo, tragica inchiesta, la max indagine, la tratta delle nigeriane, traffico di organi umani e schiave del sesso, l'FBI a Castelvorturno. Inoltre, vediamo nel taglio centrale, in merito all'ultra che è morto nella partita, oltra ucciso indiziati, 4 napoletani, 20 anni indagato per omicidio, ma è caccia su chi era al volante. Inoltre, sempre nel taglio basso, vediamo la foto, qui il caso che il Comune non riesce ad accogliere, il caso dei migranti. Demo appello ai napoletani, aprite le case ai profughi, dice qui l'articolo. E il quotidiano La Stampa, apre con un articolo molto interessante, obiezione di coscienza alla mossa della Chiesa contro il decreto sicurezza. Di Maio accogliete donne e bambine della Sea Watch, Salvini invece dice non cambio idea. A Torino, cambiando argomento, i sitab tornano in piazza sabato 12 con noi tutti i sindaci del nord, dice qui l'articolo. Nel taglio centrale vediamo un quadro, il ritratto dell'Italia che funziona, nei musei un altro boom. Dice la primavera di Botticelli agli uffizi, il museo guida la classifica nazionale degli ingressi. Vediamo che l'Italia è molto presa dal turismo, ha aumentato le visite nei nostri musei. Vediamo il sole 24 ore, quotidiano economico nazionale. In America occupati record, Fed frena sui tassi tutte le borse in rally. Invece vediamo nei box di destra, del taglio di spalla di destra, nelle infrastrutture, il ponte di Genova salta all'accordo sul contractor unico. Tramonta per ora, dice la possibilità di avere un capofila unico e un solo contratto di appalto, sia per la demolizione che per la ricostruzione del viadotto Morandi. Inoltre, vediamo in merito anche alle ONG, il caso Malta, asse Conte Di Maio, ma Salvini dice, io non cambio idea. E inoltre, vediamo altre notizie, in merito alla Carigie, le nozze via maestra per la Carigie, la Cassa di Risparmio di Genova, dice, è una banca di importanza fondamentale per il tessuto economico regionale. E hanno tutti gli strumenti, dice, necessari, dice qui l'articolo, per questo momento delicato che la banca sta attraversando. vogliamo adesso soffermarci sulla prima pagina del quotidiano Il Manifesto, proposta indecente, apre l'articolo, dopo aver abbandonato 49 migranti in mare per 15 giorni di maio, in difficoltà nel Movimento 5 Stelle, offre accoglienza solo alle donne e ai bambini, critica la Sea Watch, non dividiamo i nuclei familiari ed è scontro con Salvini, dice, io resto della mia idea, e inoltre, mobilitazione spontanea in sostegno dell'iniziativa contro il decreto legge sicurezza, Palermo si muove insieme a Orlando, Orlando, vogliamo ricordare, il sindaco della città di Palermo. e vogliamo andare avanti, spostiamoci sul quotidiano Il Tempo, con un altro quotidiano nazionale, Salvini, sbarca Di Maio e Conte, lite fra gli alleati sui porti chiusi alla nave Sea Watch, il vice premier a 5 stelle cerca la sponda del premier e dice a Malta, prendiamo donne e bambini, ma il ministro dell'interno li gela. Vediamo qui la foto, del premier Conte con i due vice premier, Di Maio e Salvini. Inoltre, vediamo in merito alla partita di Supercoppa, le velone scandalizzate dalla Supercoppa. Vediamo qui il merito a quello che sta accadendo sulla partita che dovrà giocarsi in Arabia. Le denunce nei box di sinistra, poi arrivano a noi pure gli impiegati al comune di Palermo, boicottano il sindaco Orlando e invece qui un articolo di cronaca, agenti beffati dal furfante sprint, la polizia si fa scappare il ladro, Roma è sotto il naso. E inoltre, sempre in merito ai rifiuti, c'è il problema della raggi che deve affrontare, dice, all'altra ideona al Movimento 5 Stelle dice Roma ve l'ha pulita da soli. Vogliamo andare avanti, spostiamoci dopo il tempo e il quotidiano La Verità, cacciamo Orlando e facciamo la finita, la pagliacciata dei primi cittadini di sinistra, dice Palermo, è sommersa dai rifiuti, piena di debite, non riesce neppure a seppellire i morti, il comune di mezzi fondi, per le scuole e le case, il sindaco non paga neanche gli operai nell'accoglienza, ma per coprire i suoi fallimenti vuole dare lezione a Salvini. Intanto, il capo della Lega e Di Maio si scontrano per i migranti sulle navi davanti a Malta. Spostiamo nel centro pagina un articolo di cronica finta banca inglese stanga i clienti di Lazio e Toscana. Capitals Bank prometteva guadagni favolosi e poi è svalita, dice qui nel nulla. Calcio, Juve-Milan nel Medioevo, velo integrale e garante saudita. Ecco cosa aspetta le tifose italiane. Nel taglio basso vediamo un articolo di cronica di convinti ad operarsi da ideologia e medici ora vogliono ritornare indietro. L'urlo dei trans e pentidi del cambio sesso. Stiamo al secolo d'Italia sempre il problema dell'immigrazione invasione continua Frontex parla di drastica diminuzione del numero di arrivi in Italia ma comunque nel 2018 circa 150.000 persone sono entrate illegalmente dice l'articolo nell'Unione Europea poi ti vuoi vediamo i commenti dei vari rappresentanti politici in basso i sindaci anti decreto legge sicurezza il dubbio Salvini li paga è una domanda che si fanno questi sindaci caos invece fattura elettronica il partito democratico difende grandi evasori l'evasione si combatte combattendo chi fa il grosso dell'evasione banche multinazionali e giganti del web dice l'articolo e inoltre vediamo Di Maio dice non siamo di sinistra frena i fico boys se c'è qualche membro dice della maggioranza di saggio sul decreto di sicurezza si deve ricordare dice Di Maio che fa parte di una maggioranza che in quel decreto lo ha votato vogliamo adesso vedere l'ultimo quotidiano nazionale poi passiamo alle prime tre pagine dei quotidiani sportivi l'avvenire un clima impazzito sud nel gelo il nord brucia fenomeni estremi invertiti la siccità colpisce le zone alpine la neve in bianca il mezzogiorno a Venezia bassa marea da record invece nel taglio centrale vediamo un articolo di cronaca ancora sull'immigrazione governo diviso sulle navi di ONG Di Maio per accogliere invece nodi salvini inoltre vogliamo si parla anche all'interno del quotidiano dell'Inps inel l'esecutivo pronto ai commissari e poi la triste notizia di cronaca in alto adice altra bambina morta sulle piste da sci vogliamo spostarci alle prime pagine dei quotidiani sportivi articolo di apertura gioventù dorata Gigio Scriniar Chiesa e company ecco chi li vuole e qui vediamo anche il costo dei giocatori in a ci sono dice 11 desideri che in tutto valgono 500 milioni di euro inoltre sempre in merito al mercato preso il difensore dell'Atletico Madrid Godin all'Inter arriva a luglio inoltre un articolo di cronaca all'argentino allena in Messico Maradona ore di paura per un'emorragia adesso dice l'articolo è fuori pericolo Allegri parliamo di Juventus va sempre al maxi in Europa ha vinto più di Pep Ancellotti e Zitane e inoltre nel taglio basso vediamo intervista alla rivelazione dell'andata Politano alla carica dice ora prendiamoci l'Europa League dopo la gazzetta dello sport il corriere dello sport offerti 50 milioni scavalcati Inter e Napoli Barella sul passo Chelsea Abramovic vuole chiudere subito l'operazione con il Cagliari qui dice l'articolo da Trincao Romeo tutti i talenti nel mirino dei top club inoltre nel taglio basso Milan Sarri senza freni ha chiesto anche Higuain nuovo assalto dei bluess all'attaccante del Milan effettuato pure un soggioraggio per Cavani inoltre vediamo nei box ansia per Maradona ricoverato a Buenos Aires dopo il corriere dello sport tutto sport altro quotidiano sportivo titolo di apertura rivoluzione a centrocampo sarà Premier Juve prima Ramsey e poi Popga varato il piano per giugno in partenza Chedira e Pjanic e inoltre vediamo anche nel taglio alto accordo con il difensore Uguaragliano dell'Atletico Marid sarà Nerazzurro a fine stagione colpo Inter Godin un difensore molto forte che nella prossima stagione giocherà con l'Inter vogliamo adesso passare alle pagine interne della regione Abruzzo il quotidiano vogliamo subito iniziare con il centro grande notizia che è stata data in risalto su tutti i quotidiani abruzzesi Salvini dice gli abruzzesi vogliono votare subito da Chieti il ministro spegne le speranze dei sindaci dice niente election day dallo stop agli ex di centro-sinistra in lista con l'Udc invita Di Stefano a cena qui vediamo Salvini e durante i vari convegni le folle che lo hanno applaudito vediamo anche che poi Salvini si è spostato a Pescara a Montesilvano 3.000 persone dice lo hanno accolto e inoltre dice anche il sindaco di Chieti di primo diventa il sindaco contro i ribelli la sua lettera che ha accusato Orlando vediamo sempre e quindi durante la visita di Scusate Salvini che ha effettuato in questi giorni in Abruzzo vogliamo a riguardo vedere un servizio preparato dai nostri colleghi del TG6 prima giornata abruzzese per il ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini che è arrivato nella nostra regione per la campagna elettorale a sostegno del candidato presidente del centrodestra Marco Marsiglio nel pomeriggio ha presieduto in prefettura a Pescara il comitato di ordine e sicurezza pubblica con la successiva conferenza stampa in cui ha fatto anche il punto della situazione nel capoluogo adriatico ed in provincia con l'anno nuovo dal ministero arriveranno 900 mila euro per il sistema di videosorveglianza in città sono arrivati finanziamenti per scuole sicure perché a Pescara come in altre realtà italiane a questo mi dedicherò con particolare attenzione c'è l'allarmante di la gara del fenomeno della droga affronteremo insieme alcuni problemi ancora in via di soluzione a Pescara lo sgombero delle case popolari occupate abusivamente vedremo di aumentare il numero e la qualità degli sgomberi la presenza spesso e volentieri al di fuori di ogni regola e di ogni rispetto della legalità da parte dei Rom a Pescara e provincia sarà da me e dal mio ministero particolarmente attenzionata dal punto di vista dell'immigrazione la riduzione degli sbarchi ha portato a una riduzione della pressione dei richiedenti asilo a Pescara in provincia sono rimasti 606 richiedenti asilo e conto che il 2019 abbia gli stessi numeri positivi di decremento dal punto di vista dell'ordine pubblico è una bella realtà che lavoreremo perché sia ancora migliore nel 2019 sempre nel pomeriggio a Pescara presso la sede della prefettura il ministro Salvini ha incontrato i parenti delle vittime di Rigopiano a pochi giorni dai nuovi interrogatori che si terranno la prossima settimana in procura e penso che dopo due anni al di là delle vicende processuali ovviamente che non competono al ministro degli interni mi farò carico di riuscire senza fare promesse prima del tempo però a garantire i diritti agli orfani e alle famiglie che hanno perso le 29 persone nella tragedia di ormai quasi due anni fa e quindi conto entro una decina di giorni di saper dare ai familiari risposte concrete e non le sole pacche sulle spalle che hanno ricevuto in questi due anni allora noi chiediamo semplicemente una cosa che venga applicata la legge Viereggio ex Linade è stessa anche a noi di Ricopiano è importante questo cosa abbiamo chiesto tante cose abbiamo chiesto le risposte non ci sono state date giustamente come da persone serie non si vanno date subito però ci siamo dati tempo una settimana per poter riflettere e poter trascere delle risposte essere abbandonati da uno Stato che è colpevole una parte delle istituzioni sono colpevoli è qualcosa di indescrivibile fino al ritrovamento dei nostri cari siamo stati assistiti dopo ci hanno detto ecco là i vostri corpi andate a prendere e portatevi da casa arrivati a casa troviamo là davanti il picchetto d'onore con la corona dei fiori questo è stato l'ultimo l'ultimo intervento dello Stato da allora mai più siamo andati da Mattarella siamo andati da Gentiloni vi faremo sapere sono passati circa un anno da quell'incontro non ci ha fatto sapere nulla nessuno quindi sperate in una settimana sì speriamo in questa settimana in mattinata il ministro degli interni aveva partecipato a Chieti ad un incontro pubblico con i cittadini proprio a Chieti questa mattina il ministro degli interni aveva detto la sua sulla votazione che ci sarà proprio per le regionali in Abruzzo nel mese di febbraio nel periodo più freddo dell'anno ascoltiamo cosa ha detto il ministro non si potevano accorpare le elezioni no no non può essere il governo a decidere però ripeto con la neve col ghiaccio col sole col freddo io penso che gli abruzzesi voteranno in tanti per cambiare la pessima gestione di una regione stupenda e io ci sarò e infine c'è stato l'endorsement del ministro Salvini per Marco Marsilio ritenuto anche dal responsabile degli interni il candidato migliore per il centrodestra significa una grande spinta per questa vittoria Salvini è oggi come dire il leader della coalizione di centrodestra guida il partito che ha maggiore consenso elettorale e quindi il suo impegno ancora prima di presentare le liste è un impegno di serietà di voglia di vincere questo non può che farci piacere generare molto ottimismo per questa campagna elettorale vogliamo anche ricordare che oggi a Pescara ci sarà anche il vice premier Di Maio e domani c'è il Legnini dove presenterà l'onorevole Legnini la sua lista a tutti i cittadini vogliamo adesso andare avanti spostarci su altri argomenti Abruzzo mancano dice 2,5 miliardi di tasse ma siamo la regione più virtuosa del sud a livello nazionale sottratti al fisco 113 miliardi praticamente dice sono state due manovre sono inoltre sempre qui bollo non pagato 800 cartelli in arrivo a inviarli ai morosi la Soget e l'agenzia delle entrate riscossione per conto della regione Abruzzo vogliamo andare avanti vogliamo spostarci su altri argomenti cambiando proprio argomento shopping e sconti fino al 5 marzo musica e videomapping per la partenza dei saldi oggi cominciano le vendite a prodotti ridotti ecco le regole per evitare le truffe cori gospel street band e presepe i viventi per richiamare i consumatori nella città in merito ai saldi oggi invece riaprono parchi e cimiteri il comune di Pescara dichiara conclusa l'emergenza maltempo e revoca tutti i divieti visto che il maltempo è stato ormai superato il momento clou Mancini che è il manager della ASL della provincia di Pescara dice è pronto il maxiambulatorio per le vaccinazioni l'annuncio del manager dell'ASL per la struttura di via Polini l'apertura entro la fine del mese servirà 100.000 utenti dice il manager dell'ASL inoltre altri articoli sempre a Pescara il parco Michetti riapre sarà curato dai detenuti il presidente della provincia Zaffiri annuncia la firma di un'intesa con il carcere in servizio a tre persone per un anno saranno usate anche per il verde e la scuola dice il presidente della provincia di Pescara dando ancora avanti si parla anche di altri argomenti di cronaca lavori in centro polemica dell'ex vice sindaco via Trieste feste con il cantiere fiorilli residenti e negozianti tra la polvere dice chiederemo i danni inoltre sempre sulle elezioni regionali l'ex assessore dice la Santa Venere lascia di Matteo e corre con il centro-destra postiamoci adesso sulla cronaca di Monte Silvano cantieri abbandonati spacciatori e balordi nella scuola mai nata via Migliorino i residenti lanciano l'allarme sul degrado nella zona della zona dell'opera parlione rilancio frenato dal contenzioso tra il comune e la ditta appaltatrice inoltre sempre a Monte Silvano le regionali articolo 1 presenta la candidatura di battaglia vediamo postarci sempre su altri argomenti questa volta sempre la zona di Città Sant'Angelo dove dice che via Colella nasce un nuovo quartiere qui vediamo la foto dell'assessore Mirco Di Giacomo dove dice che Città Sant'Angelo ci sarà un'area di pregio di 36.000 m2 presto trasformata in zona edificabile con la variante al piano regolatore generale qui vediamo la foto di via Mario Colella dove verrà trasformata questa zona inoltre con diciamo il maltempo due tartaruche morte spiaggiate a Monte Silvano il maltempo ha fatto anche questi danni infatti vediamo furia del vento sdradica alberi e tetti salta la copertura del ristorante a Valle Anzuca pianta in strada mezzi spargisale a Fontechiaro e Castelvecchio vediamo ancora infatti sempre col maltempo strade a rischio per la neve sospesi bus emergenza in provincia in forse la riapertura delle scuole a Farindole e Montebello domani si decide mezzi spargisale in azione in Val Pescara infatti vediamo dalle foto la neve come ha veramente invaso parecchie parti interne della provincia di Pescara ci spostiamo adesso cambiamo provincia spostiamoci a Chieti grandi opere tra ritardi e partenze dice qui l'articolo tunnel ripartono i lavori sarà pronto per l'estate l'assessore di Felice annuncia dalla prossima settimana riapre il cantiere atteso dal 2008 il collegamento da 2 milioni di euro tra il terminal bus e il centro di Chieti invece riguardo alla Sevel un bilancio positivo in Val di Sangro nuovo record 5 mila furgoni in più sono stati realizzati nel 2018 la fabbrica ha prodotto 297 mila veicoli nonostante l'ultimo stop per neve e le difficoltà di rifornimento del materiale ricordiamo che lo scorso anno c'era stato il blocco dei mezzi pesanti e la Sevel non ha avuto modo di avere rifornimenti invece a vasto caricato da cindiali mentre passeggiavo dice Paura il comandante delle guardie ecologiche volontario assediato da un branco di animali anche qui sappiamo che la provincia d'Abruzzo ormai ha preso molto piete questi animali che hanno invaso tutte le zone invece a Bellante preso a pietrate dai rapinatori armati la notte da incubo di un imprenditore che dorme in azienda contro i furti ho gridato dice mi hanno detto ti spariamo infatti vediamo qui dalle foto anche quello che è accaduto invece un altro articolo di cronaca Teramo carcere detenuto spacca il naso a un agente nuova aggressione a Castrogno il sindacato sappe denuncia i reclusi violenti non vengono puniti vediamo quello che è successo una triste notizia anche qui su bancaria invece rapinata di 117 mila euro la direttrice della filiale di San Nicolò della Banco del Credito Cooperativo di Basciano li stava portando nella sede centrale mentre l'auto è stata bloccata dai banditi inoltre l'articolo anche era riportato nella prima pagina donna incinta con le doglie partorisce in ambulanza nel tragitto tra Roseto e Teramo mentre veniva portata in ospedale altro articolo di cronaca insegue l'exemoglio armato resta in carcere ad altri per il giudice per le indagini preliminari dice c'è il rischio di reiterazione del reato l'infermiere aveva violato il divieto di avvicinarsi vogliamo sempre postarci su altri comuni il vice sindaco di Silvi Valle Scura per i vigili dice ho fatto il possibile il comune chiarisce la sua posizione dopo la bocciatura in sede della mozione del Movimento 5 Stelle sul prolungamento del servizio straordinario della polizia locale anche in estate ma non solo a Pineto non solo spesi inutili con i fondieni l'opposizione replica al sindaco Verrocchio per i cittadini nessuna opera importante e inoltre sempre su maltempo Roseto nuovi lampioni caduti prime verifiche l'assessore dice sono stati stanziati 6.000 euro qui vediamo dalle foto sia i pali caduti ma anche i semafori che sono spericolanti e stanno facendo effettuando il comune tutte le verifiche opportune affinché non possa accadere più e all'Aquila la fiera dell'Epifania ecco come muoversi bancarelle nella neve 350 espositore gran lavoro per assicurare la pulizia dice nelle zone del centro storico servizio bus e navetta e chiusura dei cantieri vediamo nel taglio basso zone di Avezzano migrante ucciso dal freddo in casa nell'abitazione del 45enne marocchino non c'era il riscaldamento dice qui l'articolo Marsica allarme ragazzini in pericolo sempre ad Avezzano sballo da Vonda in come tilico a 14 anni minorenne soccorsa dal 118 in piazza Risorgimento lo psichiatra di Salvatore dice c'è chi vende alcol farò una denuncia vediamo sempre nella cronaca di Avezzano minaccia gli infermieri con una spranga Avezzano paura in ospedale per un paziente fuori controllo bloccato dal personale della vigilanza di Saggi a Prado in Valle Peligna bloccato nella tormenta notte di paura automobilista di opi soccorso all'alba albero caruto isola prezza per qualche ora a Goriano mancano gli spazzaneve vogliamo adesso spostarci sul quotidiano il messaggero anche qui si parla nel quotidiano il messaggero della visita di Salvini Pescara non ospiterà dice i Casamonica linea dura su droga e sfratti gli impegni del ministro dopo il vertice sull'ordine pubblico infatti c'è stata una riunione dell'ordine pubblico presente anche il prefetto di Pescara Gionardina Basilicata con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e vogliamo andare avanti sempre in Abruzzo maltempo lo trovano morto nell'abitazione fredda e fatiscente l'uomo viveva in una casa senza infissi è priva di riscaldamento e inoltre sempre sul martempo difficoltà in autostrada per la neve nelle zone della Marsica e dell'Aquila vogliamo adesso spostarci a Pescara provincia di Pescara maratona dei saldi al via da oggi sipario sulle feste i commercianti dice pronti per l'assalto alle vendite promozionali che porterà ogni famiglia a spendere in media oltre 300 euro dice qui l'articolo e a Montesilvano oggi non è da meno l'anteprima oggi dice in piazza Diaz sempre per questi eventi di questo periodo inoltre ecco qui un altro articolo in merito alla mareggiata che fa strage di tartaruche 11 cascasse di carretta recuperate sulla spiaggia tra Pescara Montesilvano e Pineto fatale l'impatto con gli scogli dice inutile l'intervento della capiterneria con un veterinario dopo il primo allarme lanciato dai volontari di nuove saline qui vediamo infatti la foto di una delle tartaruche trovate morte sulla spiaggia di Montesilvano e all'Aquila vediamo come anche qui riporta che la neve non fermerà la fiera pure gli ambulanti con la pala corsa contro il tempo per limitare al massimo i disagi mobilitati anche volontari e squadre della protezione civile organizzatori tempestati da telefonate preoccupate ma alla fine le disdette sono destinate ad essere poche vediamo anche altri articoli di cronaca in basso la molida violenta tre ragazzi a processo qui si parla che già a terra dopo essere stato colpito con un pugno in faccia si è sentito gridare da due giovani a Guzzini ammazzalo rivolgendo anche al terzo un analogo dice un analogo coetaneo che voleva ancora scaricare pugni calci che lo aveva nuovamente fatto cadere a terra questo si è creato una forma anche di bullismo regionali già aperte le sedi elettorali il sindaco si sbilancia l'uscente Iampieri scusate di Forza Italia già è al sicuro pronte le candidature provinciali dei 5 Stelle in Marsica attivi gli esponenti della Lega Angelo Santi inaugura Celano l'avvocato Morgante invece nel centralissimo corso della libertà vediamo che tutti i preparativi che i politici della regione Abruzzo stanno facendo perché sappiamo che i primi di febbraio ci staranno le elezioni regionali via ai saldi ora quelli veri è la rivincita dei negozianti dice risvegliamo i consumi dopo un anno senza botti dice Confcommercio di Chieti parte la stagione degli sconti ogni famiglia spenderà poco più di 50 euro è stato fatto uno studio su quello che potrebbe spendere una famiglia per questo periodo dei saldi a San Salvo sappiamo il rogo di Capodanno che c'è stato dopo il rogo aria irrespirabile e malori molte segnalazioni dei lavoratori della zona industriale dopo l'incendio al capannone di Viale Belgio denuncia la CGL fastidi e disturbi cresce la preoccupazione per l'amianto tra gli operai che chiedono di incontrare Comune Arta e Asla inoltre un articolo di cronaca San Vito Villa e Uliveti sequestrati alla Camorra quest'articolo lo abbiamo anche già letto nella prima pagina del quotidiano sempre il messaggero della regione Abruzzo a Teramo si parla ancora di ricostruzione ricostruzione lumaca fuori sei addetti dall'ufficio tecnico dopo il cambio della guardia tra Dalberto e Rivera hanno rinnovato il contratto ad alcuni dipendenti le pratiche da evadere sono oltre 4.000 e non si capisce come si procederà con gli appalti dice qui l'articolo inoltre un articolo sempre di cronaca detenuto spacca il naso a un agente carcerario è successo a Castrogno però il sindacato sollecita incontro con il ministro di Grazia e Giustizia buona fede il ministro del Movimento 5 Stelle vogliamo adesso spostarci al comune di Giulianova fatture false una condanna e due assoluzioni riguardavano il mondo del calcio locale per uno dei colpevoli applicato alla pena di otto mesi di reclusione un altro ha ottenuto il beneficio della prescrizione ed il terzo è uscito completamente di scena senza problemi vogliamo adesso spostarci prima di passare alle pagine sportive al quotidiano la città pagina interne la città della provincia di Teramo siamo qui per ridare speranza all'Abruzzo regionale primo giorno del tour del ministro dell'interno Matteo Salvini a sostegno di Marco Marsilio abbiamo oggi il ministro Salvini si troverà anche nella provincia di Teramo e in basso regionali porte ancora aperte invece per l'ex parlamentare Fabrizio Di Stefano e Bella Chioma invece segretario regionale ribadisce il no a Olivieri e Giorosolimo a Teramo gran pasticcio alla Teramana sul porta e porta la Team annuncia niente organico causa neve il sindaco ha diffida la verità che non c'è abbastanza personale qui vediamo la foto di un addetto con il camio della Team al lavoro nella raccorta di ieri pomeriggio l'antefatto qui dice i resti del cenone di Capodanno puzzano dice già da una settimana in casa e la raccorta prevista per oggi è stata sospesa però il comune giovedì chiede servizi extra e ha la teme per il pericolo ghiaccio neve e sicurezza allerta neve in rientro per questo pomeriggio le previsioni portano all'evoca del blocco dei tir sappiamo ieri nel pomeriggio tardo pomeriggio c'è stata una riunione in prefettura problemi per il ghiaccio e per le mareggiate vediamo qui la foto nelle foto vediamo un tir bloccato a Civitella del Tronto invece i mezzi della provincia in azione nell'entroterra terra mano inoltre in basso sempre a Teramo vigili del fuoco madre e figlio rischiano grosso a colle atterrato la tv prende fuoco per un corto circuito una brutta avventura dice per una mamma e un figlio che stavano assistendo in casa a una trasmissione televisiva quando il televisore ha preso fuoco per un corto circuito rompe il naso all'agente di polizia penitenziaria i sindacati di polizia denunciano la situazione di Castrogno ricettacolo di detenuti riottosi e ingestibili Giuseppe Pallini fa un commento a Teramo 270 posti ci sono 430 detenuti molti psichiatrici eppure mancano 70 agenti di custodia sempre un altro commento donato capece carceri incandescenti il ministro Buonafede intervenga anche sulle decisioni del capo dipartimento Basentini triste vicenda che è successa ieri nel carcere di Teramo la ricostruzione non subirà uno stop gli onorevoli pentestollati annunciano soluzioni per il personale che lavora alle pratiche abbiamo molto sentito perché ci sono più di 4.000 pratiche da evadere però c'è mancanza e carenza di personale il partito democratico invece punta sulla sentinella del Gran Sasso la dottoressa Maria Maddalena Marconi in odore di candidatura alle prossime elezioni regionali vediamo qui Maria Maddalena Marconi di gegente del SIA della ASLE di Teramo potrebbe essere candidata alle elezioni regionali Natale da senza tetto per la circolare Salvini il SICET torna a denunciare il caso della madre e della figlia che vivono in auto dall'inizio di novembre e perciò una triste vicenda e invece riparlando di cronaca e difesa all'interno delle case imponente di fronte all'assalto dei ladri imprenditore si trova faccia a faccia con i malviventi chiama le forze dell'ordine ma nessuno dice arriva qui vediamo dalle foto i ladri mentre cercano di forzare il motore del cancello e a destra la vittima Vito Tribuzio inoltre nel taglio basso sempre in merito ai saldi invernali Gianmarco Giovannelli critico con la politica mia perché guarda solamente i nuovi insegnamenti sul territorio confe commercio consiglia di fare acquisti nei negozi di vicinato e sempre in merito al taglio dei tigli secolari il comune di Martinsicuro fa un sit-in proprio contro questo taglio e domani la manifestazione a Martinsicuro organizzata proprio dal movimento infatti Arianna Pierantozzi siamo dice l'espressione di una comunità che troppo spesso non è stata coinvolta nelle decisioni che vengono prese e invece sempre a Martinsicuro è pronto l'accordo per la realizzazione per realizzare il ponte sul tronto sarà sottoscritto e presentato lunedì dall'assessore Dino Pepe e Anna Maria Casini che è anche vicepresidente della regione Marche attacco frontale della Lega a Dorazio coordinatore pinetese Palozzo il candidato è e resta dice Marco Marsiglio di Fratelli d'Italia vogliamo ancora andare avanti vogliamo adesso passare alle pagine sportive la serie B affari biancazzurri bellini dieta e sudore per conquistare Pilon la punta in Uruguay per perdere peso Rossi Pescara ci siamo qui ci sono anche delle trattative di mercato riguardano il Pescara e vogliamo a riguardo vedere un servizio svolto dalla nostra redazione del TG6 prego José Macin ed Andrew Gravion sono i due pezzi pregiati del Pescara entrambi sono finiti nel mirino di società di serie A e non si escludono operazioni che li riguardino in questa finestra di mercato la situazione più fluida è quella che riguarda Macin sul talentuoso centrocampista guineano hanno messo gli occhi Torino Milan Genoa e Sassuolo la discontinuità di rendimento a tratti palesata non ha nascosto le grandi qualità tecniche del giocatore cresciuto nella Roma che abbinata ad una imponente struttura fisica lo rendono prototipo del centrocampista moderno anche nella massima serie nei giorni scorsi il suo agente Donato Di Campi ha incontrato il Milan che tuttavia ha altre priorità in questo momento il Torino con la partenza di Soriano potrebbe offrire una cifra che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro al momento però la posizione di pole position che oltre a soldi circa 3 milioni potrebbe mettere sul piatto una o più contropartite tecniche in particolare il gioli di centrocampo belga Stefan Omeonga e l'attaccante spagnolo Raul Asensio il Pescara però può sedersi al tavolo anche con il Sassuolo che ha visionato Macin nell'ultima gara a Caseringa con il Venezia il club di Squinzi un tentativo potrebbe farlo in base all'accordo stipulato in estate con la Roma al momento del riscatto il 50% del prezzo di futura rivendita finirà ai giallorossi da verificare se un'eventuale operazione porterà all'addio di Macin o alla sua permanenza in prestito Andrew Gravion per rendimento è tra i migliori biancazzurri stagionali proprio il Sassuolo tramite il suo capo scout Cristallini sempre nella gara con il Venezia ha avuto ottime impressioni sul difensore della Guadalupa ma in questo caso c'è una concorrenza più spietata l'Inter che ha cresciuto il calciatore ha una prelazione e potrebbe riportarlo a casa anche il Napoli monitora la situazione di Gravion che però resterà a Pescara almeno fino a giugno intanto il Delfino attende sviluppi concreti nei prossimi giorni sul fronte attacco con Cocco e Monachello sul punto di andare via le partenze libereranno spazio per eventuali arrivi in cima alla lista c'è sempre Alessandro Rossi della Lazio Gianluca Lapadula sembra destinato a restare un sogno visto che l'attaccante del Genoa ha mercato in Serie A e molto difficilmente scenderà in cadetteria occhio sempre dalla Serie A ad una importante opportunità che sta maturando Daniel Ciofani l'attaccante marsicano potrebbe ritenere chiuso il suo lungo ciclo a Fosinone società che cerca altri nomi per il reparto avanzato l'ipotesi di un suo ritorno in Biancazzurro potrebbe essere agevolata dalla presenza del fratello Matteo i due sono legatissimi anche se su Daniel fa un pensierino anche l'ambiziosa Cremonese già detto di Asensio resta sempre vivo in Casa Pescara l'interesse per Scamacca del Sassuolo di ritorno dalla poco felice esperienza in Olanda al PECS Volley vogliamo adesso passare alla serie C il Teramo Calcio Bacio Terracino saluta c'è l'idea Sparracello della Virtus Franca Villa qui lo vediamo anche nella foto Claudio Sparracello l'attaccante di 23 anni il diavolo valuta l'attaccante dei pugliesi in uno scambio con Zenuni proposto il difensore Tissone Imolese invece la serie D domani c'è il derby Pineto Franca Villa e i giallori si rischiano di perdere Caffiero vogliamo adesso spostarci allo sport del quotidiano il messaggero Pescara come abbiamo visto mercato senza grandi firme il padrone Sebastiani non vuole rompere gli equilibri Rossi dovrebbe arrivare subito e Daniel Ciofani e la Padula andranno altrove a Mister Pilon non ne piace l'argentino Spolli in difesa sempre qui il teramo Calcio entra di Matteo entra un costruttore edile ed ex presidente del Mantova dice darà una mano a Campitelli che resterà comunque presidente dopo la definizione dei capitali nuova governance vogliamo adesso passare alle pagine del quotidiano sportivo quotidiano la città della provincia di Teramo leggiamo gli ultimi argomenti di sport sempre in merito al Teramo Calcio di Matteo Teramo matrimonio in vista l'imprenditore originario di Villa Literno sarà il nuovo socio di minoranza club di Campitelli dice gli interessi calcistici dice di Matteo ha avuto esperienza con Spall Imolese in Mantua ora sarà protagonista nel Teramo Calcio e inoltre sempre qui nel box dice minoritaria ma cospicua non è ancora ufficiale la percentuale ma sarà una quota cospicua per la società Bianco rossa inoltre per concludere come ultima notizia il calcio mercato qualche difficoltà in più per Andrea Bianchimano sulla punta la concorrenza è grande Costantino Teramo fino al 2021 cresce dice l'ottimismo con quest'ultima notizia sportiva vogliamo concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6 che riprenderà lunedì mattina 7 gennaio sempre alle ore 8 io vi ringrazio per la vostra attenzione vi lascio con la programmazione di TV6 ricordandovi i nostri telegiornali che ci saranno oggi sempre alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 vi ringrazio e vi auguro una buona giornata vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti.